Ciao a tutti ragazzi, bentorni da Marco Azzurro in un nuovissimo video. Oggi ragazzi andiamo a commentare l'accoglimento da parte della corte d'appello, non lo so. Comunque è stato accolto il ricorso proposto dal Napoli per Victor Rosimane verso la decisione dell'espulsione delle due giornate dopo il cartellino rosso contro il Venezia. Ragazzi, cartellino rosso che a mio avviso non c'era, non c'era. Un giallo sì, ma un cartellino rosso no. Ad ogni modo, Osimane lì ha fatto una cazzata e andava punito, però addirittura le due giornate di squalifica erano fin troppo. Infatti il Napoli ha fatto il ricorso e adesso la giornata è diventata una, che è già stata, diciamo, svolta la partita contro il Genoa, la giornata scorsa appunto. Quindi ragazzi, Osimane ci sarà contro la Juve, è stato accolto il ricorso. Gli uventini che rosicano perché il Napoli ha rubato ora. Cosa abbiamo rubato? Cosa? Era una ladrata espellere un giocatore per due settimane per un contrasto di gioco in cui lui accidentalmente, secondo me, ha dato una manata all'avversario, ma anche l'avversario non è che si sia tirato indietro dall'usare le mani. Cioè, contestualizziamo un po', non mi sembra tutta questa ladrata. Già ho visto commenti di Juventini, solita ladrata dei napoletani, ma dove? Cioè, tu fai un ricorso, loro te lo accolgono, se te lo accolgono vuol dire che ci hanno ragionato tanto e hanno capito che effettivamente prima avevano fatto una cazzata. Quindi, buono, finalmente un ricorso che viene accolto. Accolto il Napoli, in genere, è stato sempre molto sfortunato con questi ricorsi, quasi tutti respinti. Io, sinceramente, se non fossi in una società, difficilmente andrei a fare ricorso per un cartellino rosso, per una cosa, però in questo caso ci stava perché era fin troppo esagerato espellere osimane per due giornate. Una me la posso prendere, ma due giornate, proprio quando c'era la partita contro la Juve, era meglio di no, e adesso il giocatore ci sarà al Maradona contro la Juventus. Bene, bene così, bene, bene, perfetto. Niente, ragazzi, sono felice. Ad ogni modo, importa, non so chi cavolo giocherà a questo punto. Tra l'altro, Simen oggi ha fatto anche gol contro la Nigeria. Importa, non so chi giocherà, ragazzi, c'è il serio rischio che giochi Marfella. E se Marfella è quello che abbiamo visto contro il Benevento, non prevedo nulla di buono. Ad ogni modo, Osimane c'è, il Napoli c'è, speriamo bene, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like. E ciao a tutti.